Di essere particolarmente attenti, quindi purtroppo vengono stimolati da queste persone nel vivo, quindi viene rappresentata un disastro, un incidente, delle conseguenze giudiziarie, ma comunque ovviamente i carabinieri né nessun altro percepiscono denaro o beni direttamente dalle persone. Quindi di essere attenti e nel caso comunque di informare immediatamente le vere forze dell'ordine. E' questo l'appello lanciato direttamente dal comando provinciale dei carabinieri di Arezzo, rivolto soprattutto agli anziani. Si è infatti conclusa ieri l'operazione dei militari aretini con l'arresto di 12 persone dopo un anno di indagini, l'accusa per loro è di associazione a delinquere, finalizzata la commissione di truffe. Vittime della banda erano infatti proprio gli anziani. I malviventi agivano spacciandosi per avvocati appartenenti alle forze dell'ordine o agenti assicurativi e facendo credere alle vittime che i propri familiari erano rimasti in grevi eventi, si facevano consegnare oro o denaro. Le vittime erano persone anziane, talvolta anche di 90 anni, che venivano in qualche modo aggredite da questi episodi paventati ed erano, da un punto di vista psicologico, costrette a pagare. Sulla questione è intervenuto anche il deputato aretino Marco Donati. Il Senato approvi al più presso la legge per prevenire le truffe agli anziani. Sono un triste fenomeno purtroppo sempre più dilagante, continua Donati, e non si limita a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli ma le ferisce nell'animo. Per questi motivi lo scorso settembre la Camera ha approvato una legge specifica. Il mio augurio è che anche presso il Senato approvi il provvedimento convertendole in legge prima dello scioglimento delle Camere. Con l'introduzione del provvedimento si punisce con la reclusione da due a sei anni chi con mezzi fraudolenti induce persone vulnerabili a causa dell'età avanzata a dare o a promettere denaro, beni o altra utilità.